Un incontro durato oltre tre ore, quello convocato dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, con alcuni rappresentanti del coordinamento, comitati contro la speculazione energetica. Abbiamo chiarito che noi non ci stiamo muovendo solo sul decreto o solo sul disegno di legge, ma noi stiamo facendo un percorso, un percorso che abbiamo ereditato su tre anni di assoluta inerzia. Quindi noi ci stiamo muovendo su un contesto in cui abbiamo definito una cornice su cui adesso ci possiamo muovere con il disegno di legge. Dopo il disegno di legge sarà possibile fare una delibera e contestualmente ci muoveremo in un contesto protetto per definire il decreto Aridone, il tema urbanistico e il tema paesaggistico, perché così fa un'amministrazione seria. A margine dell'incontro, un rappresentante dei comitati ha letto alla stampa un comunicato condiviso sulla riunione con la Presidente. Il coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica successivamente all'incontro con la Presidente Todde mantiene una posizione di cautela propositiva e di mobilitazione attiva. I comitati chiedono un tavolo permanente di monitoraggio e annunciano una mobilitazione per sabato 15 giugno. Chiamiamo tutto il popolo sardo, tutte le forze politiche, il mondo delle associazioni, le istituzioni locali, i sindaci, le organizzazioni di categoria di convergere a Saccargia il 15 giugno per mostrare con evidenza democratica che il popolo sardo è unito contro la speculazione energetica. Intanto nel pomeriggio sono stati presentati quattro emendamenti al disegno di legge numero 15 Salva Sardegna che prevede lo stop di 18 mesi alla realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Uno è stato presentato dalla Giunta regionale, due dal consigliere del gruppo misto Piero Maieli e uno dal gruppo Fratelli d'Italia, primo firmatario Emanuele Cera. Gli emendamenti saranno esaminati martedì prossimo dalle commissioni quinta e quarta riunite in seduta congiunta in consiglio regionale.